I primi anni di questo decennio sono stati segnati da una serie di crisi che hanno inaugurato una fase di instabilità economica e sociale, in cui le conseguenze del conflitto in Ucraina sono andate a gravare su un trend di ripresa dato anche da un parziale recedere della pandemia. Come emerge dal diciottesimo Global Risk Report, il contesto competitivo attuale è senza dubbio unico e totalmente inaspettato rispetto a qualche anno fa. Le organizzazioni nei prossimi due anni si troveranno ad affrontare gli effetti derivanti dall'aumento dell'inflazione, dagli stress geopolitici ed energetici, dall'impatto antropico sull'ecosistema e da un incerto successo delle politiche a tutela del clima. Le aziende oggi, per essere competitive, sono chiamate a perseguire il cosiddetto successo sostenibile, che oltre alle performance economico-finanziarie va a contemplare e integrare nel proprio modello di business tematiche, obiettivi e rischi ESG. Elementi gestionali non più marginali, ma fondanti attorno ai quali attuare trasformazioni strategiche su prodotti e servizi, su tecnologie, asset, catena del valore, competenze. Le organizzazioni che hanno abbracciato da subito la transizione ecologica ed economica hanno già guadagnato un importante distacco competitivo sui concorrenti, originando modelli manageriali rinvigoriti dall'integrazione con la sostenibilità, rendendo più reattivi i sistemi di pianificazione strategica e di risk management. La transizione investe e investirà con tempistiche e tare differenti, assieme ad altri eventi, tutti i settori e tutte le organizzazioni. Per poter sopravvivere o crescere domani è obbligatorio per chi comanda a scegliere oggi come affrontare il proprio percorso, navigando a vista in balia degli eventi o dotarsi di strategie di sostenibilità e strumenti di gestione del rischio che suggeriscano come mitigare o sfruttare un evento, o in extremis modificando la rotta del proprio modello di business. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!